Allora ragazzi bentornati nella serie con le mod Ce l'avevano lasciati che dovevamo Ok qua sta peggiorando la situazione in tutto questo Vabbè Ce l'avevano lasciati che dovevamo finire di uccidere Uno dei boss del rubino Spero sia l'ultimo Perché io ormai sono stanco di ucciderlo Anche se un po' di rubino ci serve Come ho detto dobbiamo ancora finire di farci L'armatore rubino L'armatore rubino Dobbiamo fare ancora Cos'è stato? Ah no è il boss L'armatore rubino Il picconazzo e il rubino Insomma abbiamo un po' di cose da fare Ma c'è ancora Ah ecco l'è là Ok Ok devo abbassare il volume Ok Ancora metà vita Ma Vabbè Significa che ci vorrà un po' di tempo Ragazzi penso che Manca veramente poco ad ucciderlo eh Perché ho fatto veramente Ho scatenato tutti i fulmini di questo mondo Andiamo a vedere quanta vita ancora Comunque Dovevo mettermi il letto più vicino Così almeno quando respawnavo Ero là Per ucciderlo Invece di fare ogni volta tutta questa strada Più di un'ora che vado avanti così Il problema è che questi mostri Nonostante hai la La spada più potente di Minecraft Non li uccidi Vediamo dov'è Qua Non mi esce la vita Però Oddio Ragazzi avete visto quanto manca Ragazzi mancano pochissimi colpi per ucciderlo Vediamo insieme questo Momento epico È il momento epico Comunque sto pensando no Di Fare un tetto Il tetto della chiesa più grande Fare una cosa più enorme E fare una torre per tutti i boss Che abbiamo distrutto Della E poi ovviamente Oddio che cosa è stato Ho usato la super mossa No l'ho sprecata così Vabbè Fa niente tanto è morto il pro Dicevo fare una torre E poi la torre più alta è quella del drago Dov'è Eccolo qua Ci siamo Ci siamo Muori Muori Ragazzi è morto Ragazzi è morto Ragazzi è morto Ragazzi è morto Non ci posso credere Non ci posso credere ce l'abbiamo fatta C'è qualche altro loot No? Ok Ok Buono 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 Qua c'è qualcosa Qualcosa altro No Non ha negato Ok via Allora vediamo che siamo riusciti a recuperare 5 diamanti 9 smeraldi 26 pepite 26 pepite d'oro E poi 7 di Pepite di rubino Perfetto Oddio qua che sta succedendo Eeeh Ah penso che sia stato il colpo della spada Che sta ancora Ok Va bene Eh ragazzi erano i fuochi D'artificio I festeggiamenti Perché Siamo riusciti ad uccidere un altro boss Allora Allora Eeeh La spada Ora Che abbiamo ucciso pure questo boss La lascerei nella sala del Del drago Ora ci prepariamo Del tutto Per andare ad uccidere il drago Ragazzi Guardate quante grande Ragazzi E' una cosa enorme Oh mio dio Eppure in mano Non sembra che è così grande Sta spada Ragazzi E' enorme Allora Andiamo a fare Altri rubini E cerchiamo di completare L'armatura In diamante Ora che abbiamo Anche un po' di diamanti All'armatura in rubino Scusate Ok Allora Andare qua Abbiamo solo rubino Solo uno Ok Vabbè Vabbè Sempre meglio di niente Vediamo un po' Un attimo Un attimo Un attimo qua Ok Aha Ne possiamo fare un altro Che culo Buono ragazzi Facciamo L'altro rubino Aspetta qua Devo andare Ok E abbiamo E abbiamo Quattro rubini Perfetto Il blocco Vabbè Il blocco Che ce ne facciamo A posto Abbiamo tutti i rubini Che ci servono Perfetto Per finire Per finire la nostra Armatura Forse Sano anche di più Allora Vabbè Lasciamo tutto Il richiume Gli smeraldi Diamanti Devo Ora devo capire Come Togliere L'incentamento A Tutta l'armatura Per voi Farla diventare Armatura In Sennò La posso Ricraftare Non so quanto Mi conviene No no Oddio Tu che ci fai Qua dentro Che vuoi Vai via Sparisce La mia vita Non ti far mai più Vedere Va bene Torniamo a casa Che poi Casa È mezza Vissuta Me la dovevi Ricostruire Ma Chi se ne frega Allora Nella prossima serie Uccidiamo il Wither Invece il Drago Lo uccidiamo In questa serie Nei prossimi episodi Allora Vediamo se abbiamo Slenderman Mi servono I Slenderman Oddio Tu Sparisce Muore Perfetto Perfetto Ok Qua 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 Sarà Bruciato Ok Allora Ehm Abbiamo Quasi tutto Per uccidere Il Drago Penso Vabbè L'arco Con le frecce Ce l'abbiamo Dovevo Finire Solo All'armatura Ma Si Qua Che abbiamo Ah Sono Però Sono pochi Ender Eye Devo uccidere un altro po' di Enderman Quindi devo passare Un'altra sera A Massacrare Enderman Solo che Pochi ti danno L'Ender Pearl Quindi Non lo so Vabbè Poi qua Ne spawnano pure Pochi Passare una settimana Prima di Prima di Uccidere il Drago Allora Vabbè Portiamole Oddio che devo Ruttare Portiamole Modifica La Chisa Allora Le torri Le facciamo partire Di là Quindi Avevo ucciso Quanti boss Però Non so In che materiale Farli Non lo so Qualche materiale Bello Non abbiamo Blocchi Fighi Oppure Smantegliamo Le case Con Le mura Rosa E le facciamo Con quel materiale Tanto Come ho detto Sto mondo Secondo me Se spawniamo Aerobrine Nella fine Perché C'è C'è L'attivatore Della maledizione Quindi Penso che Quello Farà il casino Vabbè Ho la coppia Del mondo Quindi nel caso Possiamo fare Quello che ci pare Possiamo pure Farlo esplodere Noi Se non succede Niente Quando evochiamo Aerobrine Allora Lo faccio Esplodere io Spero che non succeda Niente Quando evochiamo Aerobrine Così almeno Mi tengo il mondo Per una volta Mi perdo sempre I mondi Delle Delle vanille Avrò fatto Più vanille Che Che altro Su questo Su questo Canale Perfetto Ora Off camera Smantello Un po' di In case E poi Nel prossimo Video Facciamo Le torri Dei boss Del rubino Quindi ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video